Ben trovati, ben trovati. Ben trovato Marco Lollobrigida, abbiamo da raccontarvi dei momenti storici come quelli che vi abbiamo detto nel corso dei nostri telegiornali, un momento storico per quel che riguarda l'era nera-azzurra e infatti oggi con l'assemblea dei soci c'è stato Eric Toira, la guida del club come nuovo presidente. Non è Massimo Moratti, Massimo Moratti resta presidente onorario. Vogliamo subito collegarci con Marco Civoli a Milano che ci racconta questa giornata davvero storica. Grazie Marco Civoli. Ma in grande hanno delle ambizioni importanti questi indonesiani. In bocca al lupo, Toir facciamo in bocca al lupo, è un benvenuto in Italia. In bocca al lupo e il tempo ci dirà cosa Toir riuscirà a fare alla guida dell'Inter. Voltiamo subito pagina Marco. Parlava di scalata, Toir, penso che noi adesso affrontiamo qualcosa che comunque è molto legato alle scalate, alla fatica, al sudore, perché parliamo dell'eroica. L'eroica è una gara di ciclismo che si tiene dal 1997 nel Chianti, quindi in Toscana, ed è stata definita la Woodstock Vintage delle gare di ciclismo, perché si ripercorre la fatica, appunto anche l'epica, che in qualche modo ha sempre contrassegnato il ciclismo, con abiti d'epoca, biciclette d'epoca, insomma. E la vera essenza della fatica e del sudore, come i campioni di ciclismo, sanno bene cos'è ed ha faticato tanto, ha vinto tanto, è un'icona ed è stato un grandissimo campione. Francesco Moser, che è collegato con noi, insieme con il collega Andrea De Luca, da Trento, eccoli lì. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prima parlavate dell'Inter, parlavate di giornata storica, qua siamo nel Museo del Masso di Villa Varta, casa Moser, e anche qui si respira tanta storia, storia del ciclismo. Tra l'altro Moser mi diceva che è un interista all'acqua di rosa. Sì, ma io ho cominciato a tifare l'Inter quando andavo alle medie, perché naturalmente qualche amico era della Juventus o del Milan, non si poteva essere tutti di una squadra. E da loro sono sempre stato interista e sono andato anche a vedere qualche partita. Mi ricordo quando andavamo lì a farla sei giorni, c'era il factotum, lo chiamavamo noi dell'Inter, che veniva sempre a trovarci, e mi portava le magliette dei giocatori, perché veniva a vedere la corsa della sei giorni e lui era più appassionato di ciclismo che di calcio. Pensa, pensa. Andrea, qui siamo nella storia, no? La storia di Moser, sì, dimmi Marco. No, permettici solo di presentare il resto dello studio prima, no? Perché abbiamo anche un altro grande campione, campione adesso dei commentatori tecnici, non fare il finto modesto, è Davide Cassani. E la nostra squadra di Rai Sport, non poteva mancare. Davide, benvenuto. Grazie. E poi è stato ideatore del blog Raggi di Storia, anche lui condivide l'amore per il ciclismo. Otto volte l'eroica, no, perdone, diverse edizioni l'eroica, non ricordo quante, sono sincero. Però nell'ultima sicuramente hai fatto una cosa particolare, perché hai piazzato una telecamerina sulla tua bicicletta, poi c'era pure come è andata con Moser, a quale hai provato a stare in scia. Benvenuto Giulio Gorgolini. Giulio Gorgolini. Ben trovato. Giulio Gorgolini, ben trovato a te. Allora, eroica, grandissima pubblicità. Abbiamo un obbligo pubblicitario di pochi secondi e poi entriamo nel merito dell'eroica di quello che sarà e di quello che è stato. Torniamo subito. Quella foto lì è della Parigi e Roubaix, per esempio. Pubblicità. Bentornati a un pomeriggio da campioni. Stavamo parlando dell'eroica e allora continuiamo a parlare di questa particolare corsa ciclistica e lo facciamo chiedendo a tutti i nostri ospiti qualcosa proprio per capire quale sia l'identikit del corridore che decide di partecipare a una corsa così. È un po' tornare indietro nel tempo perché utilizzo i biciclette che sembrano anacronistiche rispetto a quelle di oggi che pesano meno di 7 kg e sono in carbonio. Io ho affrontato l'eroica due volte, la seconda con il percorso medio, 140 km, una bici del 1965, una fatica incredibile perché non avevo il cambio elettronico, avevo una bicicletta in alluminio, una bicicletta che pesava 9 kg, rapporti molto più difficili rispetto a quelli di oggi. Però è una cosa fantastica perché torni veramente indietro nel tempo. Tra l'altro i rifornimenti fantastici perché c'è ribollite e chianti. Quindi basta che non ti sbronzi troppo perché magari prendi qualche curva male. No, però io soprattutto sono andato a ribollita. Moser, c'è qualcosa di magico in questa corsa? Beh, si corre con le bici, io la faccio con la bici che ha fatto la Paris de Rubeck, poi era quella blu là sopra. E ancora l'ho portata a casa e l'ho messa qui nel museo, non l'ho neanche pulita perché quest'anno il percorso era bellissimo. Siccome ha piovuto, poi la notte si è asciugato e si poteva andare in discesa come sull'asfalto. Comunque è una gara, non è una gara, è una passeggiata perché non sono veri i corridori quelli che vengono a far l'eroica. Sono appassionati che vogliono cimentarsi su queste strade che sanno di passato. Però Francesco mi hanno detto che sei andato come un treno. Beh, io vado bene su quel terreno lì, sono sempre andato bene come la Paris de Rubeck per dire. E anche in discesa forse si potrebbe anche andare più piano, ma è più forte di me. Perché il museo è conosciuto nell'ambiente, Marco, perché qualsiasi gara, anche amatoriale, lui va sempre al 100%, anche adesso. Beh, adesso però è un 100% piccolo. Il tuo 100% attuale. Guarda, questo ce lo può confermare. Giulio, poi torniamo da te e vi pregherei di svelarci il museo che avete là, che è qualcosa di bellissimo. Spieghiamo anche quelle biciclette, quei pezzi veramente d'arte, possiamo dire. Perché Giulio Corcolini, che è appunto l'ideatore di questo blog, tu hai provato a stare dietro a Moser, no? Esatto. Non ci ha riuscito. Con la telecamerina, ma... È stato impossibile stargli dietro. Nonostante, insomma, la differenza di età, no Francesco, abbastanza evidente, però non sei riuscito a stare dietro a Moser. Eh, ma lui è Moser. Al tuo campione. Ha un altro passo. Un passo ancora straordinario. Senti, perché nasce, come nasce la tua passione per il ciclismo, di conseguenza quindi come nasce l'idea di aprire questo blog? Allora, la passione me l'ha trasmessa mio padre, che io da sempre lo vedevo custodire gelosamente delle bici che per me all'epoca erano vecchie, solo vecchie. E poi col tempo invece ho imparato ad apprezzarle, capire la tecnica, poi mi sono trovato a collezionarne, ora ne ho una trentina. Quasi quanto quelle di Moser, eh? Sono stato da dentro chissà quante ne ha. Vogliamo andare a vedere questo scrigno prezioso? Andrea. Certo, certo. Abbiamo girato delle immagini di questo splendido museo, tra l'altro creato due anni fa, è bellissimo, c'è una pista in legno che riprende proprio le piste. Qua, per collocare graficamente dove siamo, siamo attaccati a Trento, e qua sono i vigneti, dieci ettari di vigneti, dove sorge il Maso, che è la casa dei Moser, e l'azienda vinicola e dove, Francesco, avete costruito questo museo. Sì, qui siamo sopra la cantina praticamente. Oggi è arrivata anche la neve, perché in montagna c'è la neve. Comunque io avevo queste bici che le avevo tenute un po' tutte quelle del record e anche ho delle bici benotto di quando ero professionista ai primi anni, poi anche ho una bici da dilettante e poi ho tutte le bici di quasi tutte le annate. E che bella. Che abbiamo fatto, specialmente le ultime, c'è quella del record di Messico, quella del record di Stoccarda. Quella del record di Milano ce l'ho, ma l'ho prestata tra un po' e tornerà qui nel museo anche quella. Carbonio su queste bici non ce n'è? No, sono tutte in acciaio, perché quando correvo io andava ancora l'acciaio e avevamo i 6-7 rapporti. Oggi sono 11 e le bici sono molto più leggere, però io ho fatto l'eroica anche quest'anno. E non è che mi trovo male anche con la bici, è un po' più pesante, però per il resto... Ecco, io ho provato due anni con le scarpe, quelle con i cinghietti e i puntali. Adesso mi metto le mie scarpe di adesso perché mi fanno troppo male ai piedi quelle scarpe di una volta. E con i cinghietti ti sembra sempre di uscire e hai un'impressione incredibile a pedalare, perciò mi metto i pedali quelli nuovi. Spieghiamolo per chi non è avvezzo al ciclismo. Adesso si va a pressione e la scarpetta praticamente si incastra sul pedale. Anche le scarpe sono molto più comode quelle di oggi, quelle di una volta erano molto più scomode, ma poi il cinghietto ti stringe il piede, perché io mi ricordo quando correvo volevo avere sempre tutto molto preciso, perché c'è gente che pedala con i pedali lenti un po'. Io dovevo essere sempre bel fisso e se non mi stringo... Dicevamo perché sei reattivo e quindi vuoi sentire la bicicletta. No, è anche una questione di abitudini, insomma. D'altro, Francesco, bici ma non solo in questo splendido museo, perché tante e tantissime magliette che hanno caratterizzato la tua carriera e c'è anche qualcosa della tua famiglia. Sì, a partire dalle maglie anche di Aldo ci sono. Qua il Monte Corona è... Questa è la prima maglia che ho usato e c'è la maglia da campione d'Italia che ho vinto a Vellettri, che non so se hai visto, ma aveva le tasche davanti ancora, si usava a quei tempi ancora le tasche davanti. Questa è la maglia del campione d'Italia che era in una vetrina e tu vedi che c'ha le tarme quella lì, la Moby Export. Poi queste invece sono del Tour, della Filotech. 75 è questa maglia gialla. 75 è la maglia gialla e la maglia bianca. Poi queste sono le maglie della Termo Z che era la maglia ciclamino, sia della Sei Giorni che del Giro d'Italia. Queste sono varie maglie della Nazionale. Francesco, spieghiamo che l'eroica si corre con queste maglie, quindi anche tu quando corri l'eroica usi una di queste maglie. Quanto pesa in più rispetto a una maglia utilizzata adesso ai corridori? Beh, non è che pesa poi tanto. Il problema è quando piove con le maglie di lana, così che se si inzuppano pesano il doppio o tre volte tanto. Perché tu quando vai in bici non sudi? No, però quando piove, che ti bagni tutto, io sudo poco veramente. C'è dei corridori che sudava molto, io ho sempre sudato poco. Ma comunque quando c'è il sole si suda. ma mi ricordo quando correvamo con i pantaloncini di lana e la maglietta di lana, che arrivavi che la perdevi la maglia, magari la roba in tasca si allungavano proprio. Invece adesso con i tessuti moderni sono molto più comodi, sono anche molto più aerodinamiche. E qui stiamo vedendo comunque una carrellata straordinaria di queste maglie. Sì, sentiamo pure Davide Cassani. No, volevo dire Francesco, ti ricordi quando sono arrivate le maglie sintetiche, tutti a dire, ma no, non arriveranno mai alla maglia di lana, perché alla lana non si può cambiare. Invece alla fine è stata una bella rivoluzione. No, tutti questi tessuti poi sono tecnici e vanno veramente bene. Anche quelli un po' più pesanti ti difendono anche dal freddo. L'inverno si sta forse meglio che prima, ecco, perché io provavo, vado anche qualche volta che quando è freddo, e non si soffre il freddo, ecco, con i tessuti moderni. Una domanda, una domanda a Giulio. Io ho usato i primi body proprio per il record. Una domanda a Marco. Sì, una domanda a Giulio. Come ti sei vestito per l'eroica? Torniamo un attimo, facciamo un passo indietro. Da Moser, con la sua divisa della GIS. È proprio quella. Quella che abbiamo visto poco fa per altri quadrati. Vogliamo andare a sentire Moser nell'84, questo documento storico. Poi ne parliamo che siamo quasi, purtroppo in chiusura di questo spazio molto intenso, anche per il punto di vista storico, sportivo. Sentiamo. Dell'80. Riepileghiamo le fasi più importanti della Paris-Giroubaix, alla quale hanno preso parte 169 kg, 169 corridori e che è partita da Compiègne a 70 km da Parigi. A 80 km dalla conclusione è scattato Turao. Con Turao si sono lanciati in fuga Moser, De Vlaminck e il francese Duclos-Lassalle. A circa 25 km dalla conclusione è caduto De Vlaminck, poi ha forato Duclos-Lassalle. Al comando è rimasto Moser con Turao e successivamente Moser è riuscito a staccare Turao. Ora, in perfetta solitudine, Francesco Moser si appresta a conquistare la sua terza vittoria consecutiva in quella che i francesi hanno definito la regina delle classiche. In tempi moderni nessuno era mai riuscito a vincere per tre volte consecutivamente la Paris-Giroubaix. Solo nel 9, nel 10 e nell'11 la PIS era riuscito a vincere per tre volte consecutivamente la classicissima del Pave. Ed ecco ormai in rettilineo d'arrivo Francesco Moser alza le braccia al cielo nel segno del trionfo. Francesco Moser entra nella storia del ciclismo, nella storia della Paris-Giroubaix per aver vinto per tre anni consecutivamente la Paris-Giroubaix. Francesco Moser, un'altra vittoria storica. Qual è la bicicletta a cui ha più affezionato lei? Quelle ovviamente con cui ha trionfato. Questa che ho dietro, questa bici che ho dietro, è quella della Paris-Giroubaix e che ho usato a fare tutte le 5-6 eroiche che ho fatto. Quella uso solo quel giorno, poi la rimetto nel museo. Quella bianca cos'è? Quella tutta bianca? Che bicicletta è invece? Quella bianca ho fatto anche la Paris-Giroubaix ma nell'82 quando correvo con la fancucine. Davide, qual è la gara che ha trasformato Moser secondo te nell'icona del grande campione? C'è una gara in particolare? Ha vinto anche, ricordiamo, il giro nell'84? Sarebbe da parlare per ore, no? Francesco Moser è entrato nella storia per aver battuto un record dell'ora anche se poi, secondo me, tutti lo ricordano per quelle tre vittorie consecutive alla Paris-Giroubaix. Però Moser è stato veramente un grande quando nell'84 con bicicletta nuova, con una preparazione nuova ha rivoluzionato il mondo del ciclismo. Vogliamo vedere questa grande vittoria dell'84 il Giro d'Italia il contributo a pochi secondi ma tanto importanti. in linea del traguardo quando ormai sembrava che Francesco Moser avesse conquistato il titolo mondiale c'è stato il colpo di Reni di Kneteman. L'anno dopo Kneteman, caro da Vinti. Questo non è il Giro d'Italia, Davide, del 1984. Questo è il mondiale perso da Kneteman quando sembrava che avesse già vinto il campionato del mondo invece Kneteman lo batte proprio per pochi centimetri. Bene, insomma, abbiamo fatto vedere anche il lato... Andrea, da voi! Allora, grazie, salutiamo Moser. Andrea, vai, a te per i saluti, insomma, da casa Moser. No, tra l'altro, bellissimo perché c'era la bici storica dell'84 di Verona ed era inquadrata prima dal nostro operatore che magari la può tornare a inquadrare la bici che ha fatto la storia, no? Con queste ruote lenticolari. E la pagina è nera quella, quel mondiale... Però credo che... a parte che sarebbe stato meglio averlo vinto, il mondiale ne avrei vinti due, ma si parla di più del mondiale che ho perso che di quello che ho vinto, certamente. Francesco Moser comunque è un grande record dell'ora, campione del mondo, Giro d'Italia, le classiche, le Paris-Geroubaix e poi per fortuna abbiamo anche il nipote e il figlio che sono forti in bicicletta e tra qualche anno ci regalaranno soddisfazione. Speriamo che mi diano il cambio alla grande, ma non è così facile. Comunque io poi ho corso parecchio anche su pista e credo che questo abbia completato un po' tutta la mia carriera. Grazie, grazie. Grazie, un saluto qua dal Trentino. Grazie, grazie a noi, grazie a Moser, grazie a Cassani, grazie a Giulio Coglini per essere stato con noi, grazie al blog di questo ciclismo. Poi adesso cambieremo argomento noi, cara Simona, ci vediamo insieme una clip dal film Matti per il calcio e poi insieme affrontiamo appunto questo argomento, Matti per il calcio, vediamo.